Come reagisce una donna a una rottura? Uuuuh, bam! Vado allo psichiatra! Da parte quello, sette psicologiche per questo gol! Baby, non richiamerò tutto! Ma voi guardate le storie! Io non guardo proprio, io tendo a non guardare Anche io per non stare male Quanto sei stata? Vai con un'altra persona perché sai che non torni più con quella precedente Io dopo poco tempo mi sono vista con un altro uomo Dopo poco tempo? Due settimane Molti uomini invece fanno così Li vedi dopo una settimana Numero, numeriche Che vanno su qualsiasi cosa, respiri Hai un buco? Hai un buco, respiri! Vai zia, vieni con me! Ti faccio vedere le montagne russe! Quando poi appunto lasci o ti lasci o vieni lasciata Quei mesi lì di elabor riflessione Un po' speri che lui faccia qualcosa La donna quando rompe sta comunque male anche se lascia È vero, è vero Si ama, si ama È vero Non tutte Tutte Maurizio Romano Il gentleman seduttore Colui che aiuta gli uomini a trovare la donna dei loro sogni Non avrai bisogno di trovare le parole giuste Sarà lei a venire da te Eccoci qui Un'altra puntata ragazzi Di quello che le donne non dicono Oggi parliamo di un argomento fantastico Sentiamo Come reagisce una donna a una rottura? Sbam! Sbam! In maniera assolutamente pudica e tranquilla Senza nessun secondo fine Mi sono incontrato per un aperitivo sereno Vorrei chiarirlo Con una mia ex L'amicizia? Assolutamente l'amicizia Non esiste l'amicizia Ve l'ha detto prima Esatto Con una mia ex E abbiamo parlato E lei mi ha detto una cosa Che mi ha fatto Riflettere Pesantemente Ma ha detto Mauri ma sai che quando ci siamo lasciati Ho aspettato per mesi Nonostante facessi vedere che me ne fregavo Ho aspettato per mesi che tu mi chiamassi E questa cosa mi ha detto Io credevo che non mi ne fregasse nulla Hai lasciato il segno Anche io sto ancora aspettando Ma non mi chiama Però il problema mi dice Ho aspettato tantissimo E credevo che non ti interessasse più Perché gli ho detto Guarda io sono stato mesi male Dopo che ci siamo separati La comunicazione non mancava No E perché ci siamo separati Convivevamo E ovviamente è stato traumatico Per i mesi successivi E lei aspettava Che io la ricontattassi Ha detto Tu non mi hai ricontattato Vuol dire che non te ne frega più niente Penso uguale Ecco Aiutateci a capire Le dinamiche Del post Ovviamente dipende Cosa è successo nel pre Se c'è ancora No va bene Evitiamo tradimenti Evitiamo cose gravi Allora Secondo me Incompatibilità Si litiga Vaffanculo Vaffanculo Ognuno per la sua strada Secondo me anche qua dentro Che siamo solo in tre Tutte e tre Regiamo in maniera diversa Vediamo Come reagisci tu Alice Ti ammazzo la famiglia La passività Passivo-aggressiva Alice Io sono la passività C'è proprio Non sono quella Che fare i picchi Che non sono quella Abbiamo chiuso Uguale Uguale In differenza Bene Ti incontro con la nuova fidanzata Piacere Goditelo Una domanda Una domanda Dopo quanto tempo Ognuno ha le sue No? Sì Dopo quanto tempo È lecito Accettabile Culturalmente accettabile Non c'è un tempo Secondo me Sì però Dai un minuto Una storia importante Una storia importante Relazione importante Ti spiego Perché non c'è tempo Togliendo le situazioni Di tradimento Togliendo No no Nessuno si è tradito Nel senso che tu hai conosciuto Una persona Mentre stavi già con un altro Togli quella parte lì No 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 Quelle robe schifose Secondo me Perché a me è capitato Entrambe le cose Sono stati periodi Dove un po' struttura È durato sei mesi Di solito Più o meno Cinque sei mesi Poi mi riprendo Però dipende la fortuna Se hai di incontrare Una persona Che in qualche modo Dipende quanto tempo ci metti A tu a superarla E se riesci a incontrare Non è un chiodo schiacciacchiodo Attenzione Ecco Perché io non sono Per chiodo schiacciacchiodo Io preferisco È una cazzata Io sono per le ripicche Ah io no Però io preferisco Rimanere da sola Preferisco Un po' di tempo Da sola Dopo il postruttura Dove Magari rifletto Su alcune cose E ma il tuo po' di tempo Quant'è? Di solito Cinque sei mesi Però ci sono stati casi Dove Ti giuro Che io stavo malissimo Per questa persona Ci siamo lasciati Dopo due o tre anni Io ero molto innamorata Aveva Si era comportato Aveva fatto comunque Delle cose alle mie spalle Non molto carine Io avevo addirittura Incontrato dopo due settimane In un locale Con la nuova fidanzata E allora grazie Io quella sera Io quella sera lì Ho conosciuto la persona Con cui poi mi sono frequentata Per anni Ma lì è lecito Dai Luci No ho avuto la fortuna Di un insieme di cose Mentre stavo malissimo Di incontrare una persona Che poi è iniziata Piano piano Erano due settimane Però lui era già con un'altra Cioè il cuore era già straziato Il tuo Però di solito Quando il cuore è straziato Aspetto quei 5-6 mesi Non subito Io ad esempio Non riesco subito A ricollegarmi No però mi è successo 5-6 mesi va bene Cazzarola 5-6 mesi secondo me È il tempo medio Però devo dire Che se hai la fortuna In un momento Di incontrare una persona Che in quel momento Compreende Magari può succedere Infatti io non giudico mai Quando magari dicono Ah ma dopo un mese Ti sei già fidanzato Con un altro Però dopo tre settimane Quasi Non c'è un tempo giusto Io in questa cosa Non giudico mai Esatto Quello che provo Però a immedesimarmi Nel senso io non giudico Però quando noto Ragazzo o ragazzo Che si sono lasciati Da una settimana E uno di due Già riesce a ricostruire Qualcosa con un altro Mi chiedo Ha mai provato Ha mai provato Qualcosa prima Ma soprattutto Sta costruendo un qualcosa Con una persona nuova Senza aver elaborato Zero La cosa precedente Ragazzi dovete Scusarmi Però l'elaborazione Però dobbiamo ricordarci Che l'elaborazione Può avvenire Come ci sono persone Che dopo due anni Ancora non si riprendono L'elaborazione in realtà Arrivare a una consapevolezza Tu ci puoi arrivare A una consapevolezza Anche in 21 giorni Cioè provato A livello psicologico Dopo 21 giorni È vero Quella è l'abitudine però Eh ma vuol dire Che tu inizi a lavorare A cambiare Tu eri abituato a stare Con una persona Ma se tu ami Ma non è che l'amore La consapevolezza Tu la puoi avere in un giorno Però una volta che tu arrivi Già alla consapevolezza Che quel rapporto Magari aveva delle mancanze Aveva dei difetti Tu una volta Raggiunta la consapevolezza Poi hai l'elaborazione Del lutto Perché c'è un lutto Comunque la tua vita Tu il lutto Puoi comunque Elaborarlo in pochissimo tempo Io mi sento ancora una cacca A sentire queste cose Perché a me è successo Di amare follemente Il mio uomo E proprio perché Stavo così male Io ho cercato Di resettare tutto Boh Uscivo Ma eri stata lasciata Racconti L'ho lasciato io Nonostante lo amavo Perché Va bene Perché non si poteva Andare avanti Ma ti aveva fatto Qualcosa di brutto Nel senso brutto Tradimenti Mancanze di rispetto No 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 Tradimenti no Però una cosa Che io non accettavo Che io lo dicevo da anni E lui si cambia Si cambia Quindi sono sentita Anche presa per il culo Si si ho capito Comunque sei stata male Ma la tua reazione È stata di apertura Quando io l'ho lasciato Che lo amavo Uno dice no è impossibile Perché poi ti sei comportata Perché non mi sono comportata bene Io per dimenticare Per non stare male Ho iniziato a uscire Sbattermene Cioè C'era lui prima Vabbè che si ne frega Mi piace lui Ok va bene Non hai elaborato Ti sei buttata Per questo mi sento Ma ora ti faccio una domanda Ora lo rifaresti Ma dipende Dipende come reagisce Aspetta aspetta La domanda che è andata un attimo in crash Eh l'ho fatto per non stare male Cioè per non pensare Che poi magari è sbagliato Perché infatti Non è che mi sono creata Un'altra relazione Ma hai creato un problema Sono passati tre anni E ancora io non sono riuscita A creare una relazione Però io Dopo poco tempo Mi sono vista Con un altro uomo Dopo poco tempo? Dopo pochissimo tempo Tipo? Due settimane Come il mio ex Però io ho inteso Di cosa mi stai parlando Lì è una roba importante Sullo stile di vita Quindi Eri talmente delusa Talmente Cioè tu lo amavi Ma ti sei staccata Per difendere Te stessa Sì sì Ok Quindi non Cioè Parliamone Io parlo di Separazione Che litighiamo Perché non ci capiamo Perché litighiamo Perché la vediamo diversamente Su delle cose E tu Sei ancora coinvolta Dopo due settimane Ti fai trovare In una discoteca A baciarti con un altro Perché ridete? Sì lo so Questo podcast Ti sta piacendo un sacco Sì lo so Ti starai chiedendo Come io faccio A sapere tutte queste cose Tuttavia Quello che ti voglio dire In questo piccolo intermezzo È di prendere la tua copia Del Gentleman e Seduttore Questo libro Ti aprirà le porte Del mondo Dei Gentleman E oltre al libro Avrai Un sacco di bonus Videocorsi E un mare di altra roba Per prendere la tua copia Clicca sul link Qui sotto in descrizione Ora torniamo al podcast Dipende anche Dipende anche Secondo me La motivazione Per il quale Una copia Si lascia Per quello io ho detto Bisogna capire il pre Lui ha detto No ma facciamo finta Che il pre non esiste Semplicemente avete litigato E c'è stato In che senso Che bisogna vedere Come è finita la storia Che problemi c'erano prima No no Non che non esista Che non ci sono cose Oggettivamente gravi Perché se uno Ragazzi se una coppia scoppia È perché qualcosa di grave È successo No certo ma Ci sono cose e cose C'è uno Un litigio Un periodo in cui Non ti capisci Un periodo in cui Non ti trovi Litigi Continui È un conto È un conto Se mi hai tradito Se fai Una storia di vita particolare Io mi sono sempre lasciata Per robe gravi Quindi non Cioè io mi sono sempre lasciata Per robe gravi Quindi non posso dire Però ci sono certi Che si lasciano Per un'incomprensione Allora non so rispondere Però se ti lasci Per un'incomprensione C'è un problema Vuol dire che non l'amavi davvero Perché se amavi davvero Una persona Non lo lasci per un'incomprensione No a volte c'è un problema Di comunicazione Io ho lasciato Quando amavo Perché ho visto Che non c'era Dall'altra parte Volontà di Non ti sentivi amato? Mi sono accorto Che non c'era volontà Di risolvere Nel momento in cui Non c'è volontà di risolvere Vuol dire Io mi stacco prima Per evitare Di andare contro un treno Uguale Io ho lasciato L'ultima volta Per questo motivo Perché non vedevo Dall'altra parte La voglia di venire Sti incontro Io c'era un problema Quando trovi un muro Automaticamente Esatto C'era un problema Lei secondo me Aveva fatto Si era comportata male Nei miei confronti E lei ha detto È un problema tuo E io l'ho guardata E gli ho detto Hai ragione E me ne sono andato E non mi ha più visto E certo perché Lei doveva venirti incontro E dirti Guarda che secondo me È una cosa giusta Parliamo Litigiamo Parliamo Esatto Ma perché tante volte Nelle coppie Non ci si viene incontro Esatto Io invece proprio Ha detto Problema tuo Anche a volte Per condizioni di orgoglio No? Eh ho capito Però Eh lo so Ma l'orgoglio a volte Fa creare dei muri Che sono solo distruttivi Però quei muri Devi avere voglia Anche di litigare Piuttosto Io in un momento Mi sono ritrovata A litigare da sola Allora a quel punto Gli ho detto Cosa sto facendo Sto litigando da sola Ciao Perché non aveva più senso Litighiamo insieme Troviamo un accordo insieme Troviamo un punto in comune Certo Però ecco Vedi In un contesto di questo tipo In cui C'è un litigio Vedi che dall'altra parte Non c'è volontà Però Quanto Cioè Non puoi andare subito Con un'altra persona Ci va il tempo No Ma ci va il tempo Di capire Cosa ti ha portato A rimanere in quella situazione Cioè devi fare proprio Un'elaborazione tua Di tutta la storia Dipende quanto la storia è durata Perché magari lei Quanto sei stata Tu vai con un'altra persona Perché sai che non torni più Con quella precedente Io Secondo me l'ho fatto Per questo Se voi l'ho detto così Non ho modo di tornare Tu l'hai fatta come autodifesa Tu l'hai fatta come autodifesa Tu eri innamorata Soffrivi tanto Per una condizione Però non mi dice Come fa se sei innamorata Ad andare con un altro Perché tu per non soffrire Hai staccato Tu hai staccato i sentimenti Tu ti devi aiuto in realtà Tu non volevi andare con un altro Volevi scappare Perché non avevi la forza Di reggere La delusione Che lui ti aveva dato Non abbandonando Un certo tipo di vita Sei scappata Da quella situazione Quattro anni Perché ti faceva male Quanti anni A cercare di spiegarglielo Quanti anni Quattro Soffrivi Secondo me non fa testo Quindi non sono una cattiva persona No Sei assolta dal gentleman Però la dinamica Quando succede quella cosa lì E quando una persona Infatti si rifidanza Dopo due settimane Perché in realtà Non ha avuto il tempo Per elaborare il tutto E si butta Io non ce l'avrei fatta A mettere in una relazione Assolutamente Secondo me Forse adesso Secondo me Comunque un po' di tempo Ci vuole Ma è comunque soggettivo Perché ci sono persone Che riescono a Io so come te Circa 5-6 mesi 5-6 mesi Però ti dico In altri casi Anche perché io Quando mi metto con una persona È perché Voglio stare Sono proprio decine Cioè sono follemente Innamorata Poi se hai la fortuna Di Mentre stai facendo Dove incontrare Una persona Che riesce a Farti innamorare Allora Però di norma Sì 5-6 mesi Poi ci sono state volte Che invece c'è voluto Un anno e mezzo Poi la rottura Il tempo di elaborazione Della rottura Dipende anche da La consapevolezza Che avevi Della relazione Che avevi prima Esatto Lui adesso Ha appena detto Io se mi ci metto È perché sono Follemente innamorato Non tutti fanno questo Tanti si mettono Per mettersi Quindi automaticamente Automaticamente L'elaborazione È molto più semplice Perché Ok la persona Ce l'hai Per abitudine Certo Di colpo Ti ritrovi a non averla più Per tua O sua scelta Tu in una settimana Se vengi a posto Come dicono a Genova Te ne bati il belino È vero È vero Magari ti eri già disinnamorato Comunque le cose Non andavano avanti da tempo Quindi tu dici Eri già arrivato Alla saturazione Secondo me è possibile Che in tre settimane Conti un'altra persona Giusto Discliver Noi stiamo parlando Di relazioni Importanti In cui ami In cui sei sicuro Cioè che non stai con una persona Che stai sotto un treno Quindi quando ti lasci Stai sotto un treno Allora sotto un treno Può volerci anche sei mesi Un anno Secondo me Di più E mi sono passati tre anni E comunque non sono riuscita mai A avere una relazione Ma no Magari Pensi ancora a lui No No Non è che Beh lui sempre Comunque Ma non Io non tornerei mai con lui Però Lui mi ha segnato Mi ha cambiato la vita Mi ha segnato Mi ha tutto Diciamo che se ci pensi Hai ancora una sensazione Dentro di malessere No dico Dico cazzo Ma nessuno riesce a farmi stare Bene come stavo con lui E allora Questa è una dichiarazione Bella Questa è una dichiarazione Sì ma non tornerei mai con lui Perché non c'erano I presupposti della relazione No perché niente niente Ti viene in mente di No Io invece ci tornerei Perché non sempre uno Ci tornerebbe Magari uno ha quel pensiero Di dire Come stavo con lui Non sono mai stata più con nessuno Quello che provavo Per lui Però Però so che tanto Era una cosa Che non poteva andare avanti Quindi inutile Che io ci riprovi Però dico Con gli altri Dico Se io non provo quelle emozioni Taglio Perché tanto Se io ero arrivata al top Con lui E con te Non arrivo a quel livello Se no Costruisci una relazione Veloce Che è un continuo paragone Non ha senso Ma tu Perché l'obiettivo Sai cos'ha? È una strategia Sì li fai Infatti tu devi Il problema qual è? E questa è una strategia Infallibile ragazzi Quando state con una persona Che vi ha segnato Come è successo a lei Dovete trovare una persona Che vi faccia provare Da subito Delle emozioni Molto più forti Sì Perché altrimenti Succederà Quella che io chiamo Ultima configurazione Sicuramente funzionante Perché quando un uomo Perché io spesso Quando mi rompo Con una donna Del tipo di donna Con cui esco io Che sono donne molto Di un certo tipo Avvenenti Molto procaci Eccetera eccetera E molto Oltre anche con una certa testa E io mi innamoro Di brutto Che cosa succede? Io sto per mesi Da solo Nonostante Qualcosina Potrei portare a casa Sì ma senza nulla Però ti rendi conto Che devi Qualcosina Però ti rendi conto Che vuoi completare Il percorso L'aggiornamento Del software Brava Lo faccio anch'io Lo faccio anch'io Perché cosa succede Soprattutto noi uomini Che siamo molto fisici Quando hai Giacciuto Con una donna Fa ridere Quando hai Avuto un coito Con una donna Mi piaceva Il giacciuto Giacciuto Quando hai finito E hai provato I piaceri Vuoi rimanere da solo No non è questione Quando ti finisce Quella roba È finito tutto Pensi All'altra Poi uomini succedono I donna No 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 Perché se Una donna Se tu vai con una donna Tanto per Che triste Ah non lo sapevo Questa cosa Sì infatti è per questo Che io Prima di trovare un'altra Non lo sapevo Devo sempre aumentare Io infatti arriverò Diletta Aspettami Ma infatti quando gli uomini Ma il motivo Il motivo per cui Assoluti migliorare Arriverò da diletta Diletta Aspettami È il motivo per cui Quando finisce una relazione L'uomo di E Si butta subito Da qualcuna Perché vuole riempire Quel uomo di lì Però poi ci pensa La donna rimane più da sola E poi smette di pensarci Cioè ci riflette prima E poi dopo Quindi l'uomo poi dopo Quindi l'uomo dopo Cioè pensa L'uomo subito si butta E Però comunque poi pensa lei Mentre la donna rimane da sola Riflette su di lui Infatti molto spesso Infatti l'uomo cosa fa? Sembra che sta bene lui Facci caso L'uomo Nel momento in cui Si lascia Se sta male Va subito Subito Il mio subito Subito andare a puttanai Subito A fare serate Online dopo Due secondi Sbocciate cose Poi ci placa Squadrone della morte Ma allora sono un uomo Perché io ho fatto così Hai un'energia maschile forte Secondo me è un'energia maschile forte lei Sì Non l'ho ancora Però no Solo quella volta lì Perché vabbè è stato Un amore grandissimo per me Hai reagito in un modo Un modo Da uomo Maschile Anche a me è capitato Comunque una volta sola Ho fatto un fatto danni A volte capita Che uno nasconde Una reazione Praticare Primere lo star male Esatto Però cosa fa? L'uomo cosa fa? I primi mesi Lo vedi Festa Spacca tutto Primo mese Poi Si sente invincibile Perché vede la figa Non sa più da dove andare Si sente libero Poi capisce che Gli manca che cosa? L'energia femminile La donna il primo mese Tutta sì E poi E poi si rincontra Lei ha fatto il glow up E lui sotto un treno Esatto Infatti l'uomo Dopo un mese Siamo al contrario Siamo proprio al contrario E va per cartoni E l'uomo infatti ti scrive Ti penso Lei è già con un altro E lei è già con un altro Oppure c'ha già in testa un altro Oppure non gliene frega un cazzo E lo manda a fanculo E secondo me è una reazione Proprio che l'uomo e la donna Hanno diverse nel momento In cui arriva il dolore Poi ci sono le mie ex Che tornano sempre Ma anche tu Anche i nostri ex Tornano Sì è proprio il modo Che ha l'uomo e la donna Differente Di Apprendere il dolore Perché 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 la donna Ha una gestione emotiva Molto diversa dall'uomo Certo La donna quando rompe Sta comunque male Anche se lascia Certo È vero È vero Non tutte Ma la domanda che ti faccio L'uomo lo fa perché istintivo È più carnale Quindi dice ok Nel momento in cui soffro La butta sul fisico Va a cercarsi altre donne Cerca quella più figa Allora Ho detto l'inesattezza L'uomo di valore Cerca quella più figa Che gli dia più emozioni Perché deve andare a superare Non deve andare in ultima configurazione Sicuramente funzionante Cioè quindi devi avere una più bella Più x y z Della tua precedente Pensavo se ubriacassero E prendessero i Molti uomini invece fanno così Li vedi dopo una settimana I numeri Che vanno su qualsiasi cosa Rispiri Cioè quindi vanno a mettere le tacche Sul fuci Pistola Hai un buco? Esatto Hai un buco? Rispiri Vai zia Vieni con me Ti faccio vedere Ti faccio vedere le montagne russe Però mettono la tacca Sulla pistolina Cioè nel senso Dipende Eh dipende dalle situazioni C'è chi ha il fuggile C'è chi ha le pistoline Prendiamoci una piccola pausa Perché ho una cosa importante da dirti Fammi sapere se questo podcast Ti sta piacendo Perché in base ai tuoi feedback E a quelli di tutte le altre persone Costruiremo le prossime puntate Di questo podcast Mi raccomando però Ricordati di mettere like Di scrivermi nei commenti Che cosa ne pensi E di iscriverti al canale Buona visione Però nel caso è quello Perché vanno sul mucchio Però è un modo diverso Di reagire Vero Un uomo davvero Io vi racconto raga Tutti gli ragazzi Con cui ho a che fare io Che sono ragazzi Con un atteggiamento tradizionale Quindi quando vanno con una donna Sono proprio innamorati E vogliono costruire Eh poi ci vanno sotto Come un treno Cioè infatti stanno male Proprio per mesi Però fa parte anche Della crescita No di ognuno Certo Rimani male tanto così Anche quando credi tanto in una cosa E tu hai una visione futura E poi ti senti anche un po' Una stupida Quando dici Cioè ma guarda Ogni rottura comunque insegna qualcosa Secondo me Certo A me è cambiato proprio la vita Anche il dolore provato È comunque un insegnamento Anche lui Sì però spiace perché magari In quel momento di rottura Noi donne La domanda iniziale era Come reagite Esatto Però oltre reagire Che magari Almeno parlo per me Mi chiudo un po' in me stessa Cerco di riflettere Ma voi guardate le storie Io no Mi stalkerate Io ad esempio no Non farò mai vedere Che gliele guardo No 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 Utilizzo il fake No ma in realtà Non mi piace Ma le controllate o no Io non guardo proprio Io tendo a non guardare Anche io Per non stare male Ma no Ci siamo lasciati Che bisogno ne ho No 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 Inizialmente no No io certo Poi lo guardi dopo Sì Per vedere Ecco 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 Vi faccio Guarda Questa è una È una poesia Questa è fantastica Avete notato All'inizio non lo guarda Poi dopo lo guarda Dopo lo guarda No È assolutamente femminile Ti spiego perché Perché Ah dopo è più forte No non è quello La donna Quando vi lascia Ok In pratica Ora rendendola Molto molto semplice Sta Scommettendo Contro il futuro Che potreste darle Quando è che una donna Ritorna Quando è che una donna Ti guarda il profilo Perché vuole vedere Dopo qualche mese Che cosa sta facendo Se ti vede Che sei di nuovo in forma Che fai serate Che sei migliorato La tua vita Che stai bene Che sei felice Ogni tanto Magari vedrai la storia Che ti guarda Un like Un come stai No farei mai Mai L'amministrare Se non l'ho fatto I primi tre mesi No ma è così No no perché la donna Fateci caso Però dovete dirmi la verità Giuro Qua è vero Però sincera È vero che se vedete Un vostro ex Con cui avete chiuso In maniera un po' dura Che sta strabene Che sta facendo una vita A parte La Cioè il fatto che siate Contente per lui Che è normale Però È vero che vi viene un po' No È vero che vi viene un po' Da dire Cazzo Porca No perché sei cosa Imparata nella vita Io no No perché il karma Il tempo è gentiluomo Ci mette un po' di tempo No però è vero Io no perché se abbiamo chiuso E finita Evidentemente I motivi erano grandi Se tu stai bene Che ti sei ricostruito una vita Stai bene Sei in forma Benvenga per te Ti auguro comunque il meglio Io sono fatta No ma no certo Però un po' dici cazzarola Sì ma a parte che tu Non puoi vedere dai social Se una persona sta bene o meno Cioè io posso far vedere La cosa più falsa che ci sia Quindi io per quello Non guardo le storie Perché tanto io di vedere Un uomo che magari sorride Ma quella foto cosa mi dice Che sta veramente bene Sta veramente male No quindi non mi serve nulla Io ero successo Con la mia ex Io ero disperato Io ero veramente disperato Cosa mettevi le storie Che piangevi No 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 Io infatti facevo così Uscivamo con Andre Facevamo serattoni Io così Bicchiere Con sto sorriso stampato Bicchiere Un serato La paglia C'era il degenero Intorno a me Ragazzi Tu secco Rinsecchito Io vero Ero un cartone animato Sembravo Sembravo un Playmobil Così E si vedeva No comunque secondo me Non andavi a vedere Che stavi bene? Certo Delle storie Sembravo Ma infatti Ma infatti Scusami Sono una ragazzina Di 15 anni Può guardare le storie E vedere te che fai E credere che tu stia bene E infatti era incazzata Comunale Perché diceva Vedi ti sei sentato avanti Comunque secondo me Secondo me Comunque la cosa Più brutta E quella che ha detto lei Quando ti senti Stupida Perché una persona Ha sballato tutte le tue aspettative Che ha rotto proprio le aspettative Che avevi visto di lui Beh fa parte del gioco però ragazzi L'amore metterà in rischio E quello tante volte succede Se non rischi Quello tante volte succede Diciamo perché sono così scema Puoi vivere una vita Che pensavo di avere veramente Una persona del genere davanti Cioè ma come mi è venuto in mente Di credere a tutto ciò Puoi vivere una vita Rifuggendo dall'amore Per paura di soffrire Oppure buttarti E come va E prendi il rischio E prendi il rischio Che può andare di merda Però può andare veramente bene Eh ma se ti ributti Sarà dopo anni Perché No è vero Perché quando ami Quando ami Non sbagli mai Primo E seconda cosa Non puoi proiettare Il fallimento di una relazione Nelle altre persone Perché La persona Ma è nata di pesa Quella che poi ti viene Sì ma è sbagliato Perché una persona Che ti delude Una persona che ti ferisce Non ti amava E quando una persona Tu proietti Quello che ti ha fatto Quella persona Sulla successiva Gli fai pagare Lo scotto Della persona Che ti ha fatto E lì quando ti sei buttato In una relazione Senza aver elaborato Quello che è successo prima E allora Per quello diciamo Che la tempistica Secondo me Dipende quanto Tu ci metti Anni così Esatto Come magari Una o due settimane Riesce veramente A fare Si chiude in casa No guarda che è possibile Si chiude in casa Si mette lì Riflette Dipende anche che vita fai Perché molte persone Si buttano sul lavoro E non riflettono per nulla Lo puoi fare No Puoi fare un percorso tuo In due tre settimane Ci puoi mettere tre mesi Cinque anni Dieci anni Ci sono persone Tesoro Io ci sono persone Che conosco Che sono rimaste Incagliate In quella relazione E io non sono più riuscita A ricostruire Nella relazione Nel ricordo Nel loro stessi A dire Ma perché sono rimasti Incagliati In qualche roba interna E non riescono A sbloccarsi più Al dolore A dire no Non voglio più passare Questa fase Quindi va per me Non sottovalutiamo La sofferenza comunque Che può provocarti Una fine di una relazione Ti cambia Ti cambia Io guarda Devo dirti questo Tutto quello Che sono Che ho costruito A livello personale L'ho costruito Dopo il dolore Che ho vissuto Per delle mie delusioni D'amore Ma certo Ma insegnano sempre L'amore insegna Ti tirano fuori Quelle Aspetta In alcune persone Tirano fuori il meglio In altre persone Tirano fuori il peggio Magari i miei ex Dipende sempre Come reagisci Infatti la gente Non capisce Perché a me Me ne sono capitate Situazioni E mi dice Ma come fai a credere Ancora così tanto Nell'amore della film Perché l'amore Perché io ci credo Perché l'amore Ti ha deluso Ma tu non ti sei Perché la persona Mi ha deluso Non l'amore Esatto Bravo Però io credo Che la tempistica Per quello Secondo me Appunto Dire dopo Cos'hai fatto Dopo Forse è una cosa Che io non faccio Personalmente Proprio stalkerare Ma perché Se ho deciso Di chiudere O se comunque Una storia è chiusa Devo sforzarmi Di andare avanti E andare lì A vedere il profilo Per me è un po' Come tornare indietro Ma a parte il male Perché quello Lo provi comunque Ma sembra un po' Di tornare indietro È vero Cioè piuttosto Mi metto a guardare Profili di gente Che non conosco Perché devo So che la mia mente Deve essere aperta al nuovo È inutile stare ferma Guardare il suo profilo E guardare Chi segue Chi non segue Ripeto Poi io non sono stata Con ragazzi Ma non c'è mai un pensamento Il ripensamento Ad esempio Nell'ultima mia storia C'è Perché sono stata io A chiuderla Quando lasci tu Hai sempre un po' La cosa di dire Magari non l'avessi fatto Forse sbagliato Forse sbagliato Mi è rimasta un po' Ma no adesso Io parlo di Io parlo di Esatto I primi mesi Questo volevo dire La gestione del ripensamento Secondo me può avvenire Entro un mese Massimo Massimo due Allora ti posso dire la verità Ti dico solo una cosa Un mese massimo due Perché dopo un mese massimo Cioè dopo un mese due Ti apri al nuovo comunque Cioè esci Conosci buone persone Anche se hai ferite Anche se hai ferite Non è che vai con altri Però comunque flerti con altri Ti lasci Dipende Non è detto Io ad esempio Dopo un mese Già Tu Per me non ritorni più Io sono tornata insieme a mio ex Dopo quasi due anni Ma due anni È un'altra relazione È stata un'altra relazione Ed è un'altra persona Esatto Una cosa che succede Almeno a noi donne Io credo Non so se anche Sì l'ho lasciato poi io Perché non funzionava Però una cosa che succede Non so se soltanto a me Quando poi appunto Lasci o ti lascio Vieni lasciata Quei mesi lì Di Di elabor riflessione Un po' speri Che lui Faccia qualcosa Sì Che lui Non lo so Non insultarti In qualche modo Ancora ribaltare Quella situazione Sì in fondo Speri sempre che ci sia Quel barlume di luce Che non ti sei sbagliata Che non ti sei sbagliata E poi inizia anche Comunque Non può fare l'errore Inizia anche a pensare Perché perdi rispetto In che senso Fermati cowboy È una cosa importantissima Da dirti Mi raccomando Metti like Se ti è piaciuto questo video Iscriviti al canale E commenta Fammi sapere se questo podcast Ti sta piacendo Fammi sapere la tua esperienza Rispetto a quello Che stiamo raccontando Quello di cui stiamo parlando Tutto quello che ti va di dirci Quindi mi raccomando Una Guarda Io racconto sempre questa Ho paura Che rispetto può avere Ricordo che mi disse Si disegni E io C'era un foglio così Mi ero fatto così Perché in quel periodo Ti sentivi piccolo Mi sentivo piccolo Quindi non avresti fatto nulla Per recuperare il rapporto con lei No io piangevo Cioè io Era una Ora la gente vi diceva Ma Mauri Come può essere Come può coesistere Però ero talmente debole In quel periodo Che piangevo Ti aveva lasciato lei? Sì Ok E la pregavo di tornare No beh pregare Eh no Però c'era una situazione Particolare Sì sì ma io non stavo chiedendo Se uno che ti prega Però che magari fa qualcosina Per far sì Eh ma io ho fatto qualsiasi cosa Ma tu avevi già fatto tutto Però lei Non aveva più rispetto per me Perché ormai Perché io Ero talmente sdraiato Talmente zervino Che lei aveva persa Eri completamente appiattito Per questo che oggi Insegno e sono Molto Il totale contrario Cioè Aggressivo Hai ritrovato la tua forza Ora se ti disegni Non ci stai nel foglio Adesso non ci stai Il foglio è troppo piccolo Nessere Sì però tu mi hai fatto un esempio Che comunque Ti ha lasciato lei Quindi tu ti eri già Messo sotto di lei E avevi già perso il rispetto Io sto parlando invece Un'area Ma lei aveva perso Sì lei aveva perso il rispetto di te Ma in generale Comunque una donna Non rispetta mai un uomo Che si Che supera Cioè quando uno Dite Voi donne Ma no supera l'orgoglio Non è questione di orgoglio È questione di amor proprio E voi donne Avete questa roba Che Te la faccio Te la faccio arrivare piano Ce l'ho capito Già Voi avete bisogno Di rispettare un uomo Preferite Tra virgolette Avere un uomo Aspetta Che vi lasci Cioè che si faccia lasciare E che non pianga E non vi supplichi Però che mantiene la sua forza Che un uomo Che si prostri E vi supplichi di tornare È vero Non lo so Io ci sono stati momenti Che speravo Che lui mettesse l'orgoglio da parte Che trovassimo No perché sai cosa succede Che tu perdi interesse Cioè l'unica cosa che devi fare Cioè no La donna in generale L'uomo deve sempre mostrare forza L'ho capito Quindi non ci parliamo mai più infatti Eh sì Perché infatti È la donna Infatti finisce Però Comunque nei confronti degli uomini Che si sono comportati così Tu hai ancora rispetto Tu hai ancora un ricordo No rispetto A livello di uomo No No Io ti dico che non ce l'ho più Proprio perché Comunque io per tante volte Sono andata Ho cercato Lui è diverso Lui è diverso Tu avevi cercato Io parlo di Situazioni in cui Tu non hai fatto niente Lui niente È sempre la donna Che comunque ti dà un'apertura Anche solo per litigare E io non gliela sto dando No Non gliela ho data Eh capito Però il problema qual è È che se l'uomo Cioè se l'uomo si prostra La donna perde sempre Ma secondo me c'è una distinzione Tra prostrarsi e Provare a parlare Cioè non è che tu Però secondo me Il parlare è un'azione Che deve essere fatta Prima della rottura Esatto Cioè no Perché tante volte La rottura è vista Come una risoluzione Di problemi No Sicuramente Io lo lascio così Lo lascio così Cambio e risolgo No Zero 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 Cioè il dialogo Va fatto prima Poi come ultimo step Il problema è che c'è la scura Il problema è che quando arriva a lasciarti Perché il dialogo non c'è più Però io sto dicendo Che dopo A volte mi è capitato Di sperare Che magari lui facesse qualcosa Ma no Ormai era troppo tardi Ma quando l'ho fatto Per l'interesse Allora a me l'ha fatto Lui Che si è messa a piangere in ginocchio Ti prego Torniamo No no Io A me è piaciuto Te l'hai apprezzato No ho detto Sei falso Perché tanto No ragazzi Cioè se te lo dico per quattro anni Adesso che ti ho lasciato definitivamente Ti metti a piangere Eh lo potevi fare quattro anni fa Cioè in tutti questi Quindi Ne hai avuto di tempo Perché tu avevi già scelto Non è che ho perso stima di lui Perché No non è che perdi stima Però non hai Cioè quella forza Io non le ho creduto Se già non tornavi prima Con una scena del genere Torni ancora di meno Lei però l'ha lasciato Aveva già deciso Tu eri già Io invece ho lasciato Ero già seguita da sette psicologi Sette Sette No però io quando ho lasciato Ho lasciato in un impulso Poi hanno cambiato la bocca Non avevo Lei ha lasciato Che aveva deciso Tutto quanto Io quando ho lasciato Invece l'ho fatto di impulso Non ci avevo Però il problema è questo ragazzi La forza Come Emily Quando mi dicono Sai Ora cambia Perché l'uomo cosa fa Questa è una cosa terribile Cosa fa Soprattutto nelle relazioni lunghe Di convivenza La donna Non so se lo sapete Ma rompe profondamente le palle Voi no invece No voi guarda Siete degli angioletti No la donna rompe le palle E dice Dovevi fare questo Devi fare quell'altro Manchi qua Manchi là L'uomo cosa senti L'uomo cosa fa Ragazzi fidanzatevi con gli uomini Che cosa volete Da noi donne Non ci piacciono L'uomo cosa fa Quando poi lei lo lascia Fa tutto quello che Lei voleva E quando succede quello La donna perde completamente Rispetto Perché non ti posso più rompere le scatole Quindi Perché devo costruire No perché sei sottomesso No perché sei prevedibile Prevedibile e sottomesso Infatti ragazzi Quando vi lasciano Non fate Tutto quello che vi chiedevano Anzi Dovete andare in controtendenze Fare gli stronzi Ancora di più Fatevi vedere che li ci tenete No secondo me Non essere zerbino Far vedere che è l'uomo perfetto E quella è la cosa che ti fa Terribile Però non abbiamo detto Se tu guardi il tuo ex E non fa tutte quelle cose Che comunque diceva Voleva fare Ma se lui te lo faceva Sembra così Se lui si comporta Da uomo perfetto Anche dopo la relazione Infatti tu il valore di un uomo Lo vedi anche dopo la relazione Però la donna Lì la donna rimane Oh mio dio Cosa ho perso Una mancanza di personalità Se tu cambi improvvisamente Ti fai vedere Certo Lui è una mancanza di palle Volevo È una mancanza di palle Esatto No io la vedo più mancanza di palle Se tu fai Falso Raga no Però diamo Diamo degli esempi Cioè Cosa fa una donna Quando si lascia Cioè Fate capire Cosa devono Ecco Vado allo psichiatra Da parte quello Sette psicologiche Bevi lo richiamerò Tutto Cosa una donna fa Quando c'è speranza Quando c'è speranza Quindi sono io Io c'è speranza No quando c'è speranza Di ritornare Io sono lì Ma sono lì Cosa fate Allora L'ho sbloccato Su whatsapp L'ho sbloccato Volevo dirtelo Non lo sa Mi sa che l'ho sbloccato E se lo Ora lo sa Attenzione Se sei un ex Prova a mandare un messaggio Secondo me vedi l'apertura Però io già che sono una molto chiusa Quindi è difficile da vedere l'apertura No no ma o meno la sua Raccontate la vostra Però qual è Cioè Qual è secondo voi Il segnale di speranza In una coppia Tendenzialmente non leggo la speranza Se ti lasci Nel senso che Quando mi lascio A differenza di tante Io guardo le cose negative Per il quale mi sono lasciata Io le positive Quindi Perché tante volte Ci sarà un momento di speranza Dai Ad annullare le cose negative Io no Perché la minestra riscaldata In microonde Non la voglio No ma io parlo di un mese Cioè di roba Secondo me Io penso che se ci siamo lasciati È perché le motivazioni Erano talmente grandi Non avere più un dialogo Non è vero Di conseguenza La speranza Neanche la leggo Io la speranza Invece la leggo Lei l'ho capita Io l'ho capita Perla e Mirko Perla e Mirko E Perla No Loro cinque anni di convivenza Non so quanto Si sono lasciati Perché loro ormai Avevano una vita monotona Ma sono scoppiati infatti Lei non credeva Lei Dava per scontato lui Lui Dava per scontato lei Sono andati a Tentation Island Lei l'ha visto interagire Con una donna Lui l'ha visto interagire Con un'altra donna Si sono lasciati Per il nervoso Perché dico Ah tu sei una stagione Vabbè orgoglio Alla fine Alla fine Sono tornati Perché lui e lei Sono tornati insieme Perché lui È rimasto a casa Quello Non sono tornati insieme Veramente Non dura Non dura Non dura Si torna insieme Frutto del nervoso È finita È finita Loro avevano mancanza di dialogo Avevano mancanza di dialogo Stavano insieme Da troppo tempo A parte Perla e Mirko Che salutiamo Ciao I perletti I perletti Ormai ormai Questo ciao È un meme A parte loro due Allora secondo me L'apertura posso dirti Qual è Secondo me almeno Io quello che ti dico Nella situazione così Avrei voluto Che magari lui provasse Non a chiamarmi Non cose troppo aggressive Però magari un messaggino Per tastare un po' il terreno Tipo? Ma che può essere Una cosa molto semplice Tu capisci subito Una donna Da come ti risponde Anche se puoi trovare La donna che in quel momento Ti risponde un po' male Però la risposta È già una risposta Per me Quella è l'apertura Se tu provi a mandarmi un messaggio Io ora farò questo Dirò questa cosa Tutti i miei ex Che vedono questo video Ti mandano Magari mi scriveranno Tutti quelli Meno lui Io lo so già No però Secondo me L'uomo Quando la donna Vuole far vedere un'apertura L'uomo Se prova a tastare un po' il terreno Capisce Dalla risposta In base alla risposta Che dà la donna Ma di solito Siete incazzate come delle api Brava Io che sono incazzata Però lui mi scrivesse In questo momento Risponderei Non benissimo Ma non male Bene ma non benissimo Bene ma non benissimo Cioè Allora abbiamo capito tutto Rimarresti abbastanza sul neutro Rimarrei sul neutro Ora ho capito tutto Ora è tutto chiaro Hai capito? Dai dimmi che si è capito Non si è capito una fava Rimari sul neutro No no io ho capito Non rispondo Allora anche se incazzata Comunque rispondi Però non creerebbe il muro Cioè non è che gli rispondi Né malissimo Né che non rispondi Potrebbe apertura di dialogo Rispondi Apri un dialogo in maniera neutra Neutra Secondo me l'uomo può capire Da quella risposta neutro Senza incazzarsi Col neutro E quindi volete poi Che lui si sottometta però Vogliamo che lui trovi Dipende ripeto Cos'è successo prima No ma dipende Ma dipende cos'è successo prima Tipo io la motivazione Per cui l'ho lasciata È perché lui non Mi metteva molto da parte Quindi è naturale Che io da lui Mi aspetti Che mi dia un po' più di importanza Perché io ho vissuto Gli ultimi sei mesi Dove Veramente devo pregare Per una telefonata O magari la risposta Quindi erano stati brutti Io che ho vissuto quella roba lì Da lui mi aspetto Che faccia il primo Che veniva sotto casa Con i fiorellini Sotto casa E avrei perdonato Dopo cinque minuti Ma se io ti dico Che mi mancano le attenzioni E tu le attenzioni Non me le dai Allora ciao Non gliene fregava niente Va bene Allora il problema è la base Quindi Però mi sono capitate Persone che mi hanno raccontato Che magari loro Sono fatti un po' così Allora se tu vuoi recuperare Con una donna Di cui sei ancora innamorato A mio parere Devi provare tu A tastare il terreno La donna non ti risponderà Subito benissimo Ma se ti risponde Secondo me c'è un'apertura Perché la donna 99% Se già dà l'apertura E perché Ha una minima intenzione Se non l'apertura La donna non te la dà Non te la dà La donna non ti risponde neanche Forse ti ha già bloccato Tiene il muro chiuso e basta Se ti apre quel È già l'EI È già l'EI È già l'EI Con un altro Te lo dico io Proprio l'EI L'EI Se ti lascia l'EI Invece vi rispondono Perché dovete ancora Dargli qualcosa Allora quello è normale Non vogliono Se ci sono degli oggetti Questa cosa non è assolutamente Autobiografica Se ci sono degli Non è autobiografica No però ti dico la verità Ex che io ho lasciato Con cui non volevo proprio tornare Muro Mi possono scrivere in tutte le lingue del mondo Non rispondo Non ne frega proprio niente Ciao Sì se non ci vuoi tornare Sì perché dare false speranze Esatto Volete aggiungere qualcosa? Sì voglio aggiungere che Innanzitutto Commenti sotto questo video Per sapere cosa ne pensate Se anche voi avete avuto Una relazione che è finita Quindi Soprattutto iscrivetevi Al canale Al canale Per poter vedere E mettete like 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 Ciao